fico si parte destinazione berlino per andare a promuovere il nostro paese è un assaggio del nostro paese e fico qui troveremo tutta la nostra biodiversità tutte le nostre bellezze tutta la nostra cultura e quindi andiamo in germania a spiegare ai principali tour operator che devono scegliere l'italia e fico sarà solo una piccola parte un assaggio l'italia le aspetta grazie